La straordinaria opera di Luigi Pironti, figura di altissimo spessore morale, da sempre al fianco degli ultimi, rivive in questa nuova ala dell'Istituto di Assistenza Francesco Capezzuto di Ariane Irpino, a degli intitolata. Una cerimonia semplice alla presenza del Vescovo Giovanni D'Alise e di tutto lo staff che opera all'interno di questa struttura, con grande dedizione e amore al fianco degli anziani. Io ritengo che non potevamo non fare almeno di dedicare a chi per tanti anni ha dato il proprio contributo, il proprio impegno, il proprio sacrificio. Si tratta di un illustre concittadino che tutti quanti abbiamo nel cuore, Don Luigi Pironti. Dico Don Luigi Pironti perché è un appellativo che merita questa donna. è un nostro concittadino che per quasi 40 anni, dal 1956 al 1994, ha diretto questo istituto nella più completa abnegazione e sacrificio, in tempi diversi da questi, dove forse erano tempi più duri per molte persone. E quindi era un dovere da parte nostra almeno lasciare un segno di questo nostro illustre concittadino che non c'è più. E anche perché lui rappresenta una generazione, una generazione dei nostri genitori, generazione che si è dedicata all'impegno e al sacrificio soprattutto nel sociale. Quindi ritengo che al di là di questo segno visibile che noi abbiamo voluto dare, tutti quanti lo portiamo nel ricordo, nel nostro cuore. Noi, la famiglia e chi l'ha conosciuto tutti.